Amici di Youtube, ben trai da Mercoliguria, avviso importante qualora questo video dovesse superare i 500 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo e ste video tambiene sta tradusito all'espagnol Amici di Youtube, come potete vincere dal mio linguaggio del corpo, dal mio tono di voce, sono al settimo cielo perché? Perché Albano e Romina finalmente sono usciti allo scoperto e vai, lo avevamo sempre detto avevamo pronosticato per il futuro, per il ritorno, per una riunione sentimentale della famosa coppia del resto Albano e Romina sono questo, rappresentano i sogni mai realizzati della gente comune rappresentano la famiglia felice, quella felicità così tanto decantata all'interno delle loro canzoni soprattutto rappresentano l'italianità nel mondo, ricordo un meraviglioso film di Checco Zalone credo fosse cuovato e correggetemi qualora che non fosse così, scrivetemi nei commenti se effettivamente fosse cuovato in cui Checco Zalone si trovava in Norvegia vide in televisione Albano e Romina e esclamò sono tornati insieme al che decise di tornare in Italia e questo non è soltanto un atto di un film, non è soltanto la scena di un film è quello che tanti italiani pensano perché, come detto, Albano e Romina sono una grossa fetta di italianità nel mondo Amici di Youtube, la notizia di oggi è straordinaria, molto simile a quella annunciata nel video precedente Albano e Romina sono stati in concerto a Sydney ed è sbocciato l'amore abbiamo visto i due abbracciarsi, baciarsi, anche palparsi a vicenda in particolare Albano ha palpato Romina, i due hanno dato vita a un bellissimo siparietto e Romina, per scherzo, ha anche detto ti stai prendendo troppe libertà ma, amici di Youtube, come detto, non c'è nulla di male i due sono stati sposati per 29 anni a detta dei più e sono d'accordo anch'io si sono sempre amati quindi Albano e Romina, di nuovo insieme amici di Youtube, possiamo dire non c'è l'ufficialità ma questa volta ci siamo, questa volta tutte le carte sono state scoperte e Albano e Romina non ce l'hanno fatta più sono esplosi nel loro amore manifestato anche dal linguaggio del corpo e potete seguire le foto del concerto di Sydney sul mio Instagram marcoliguerisette scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo giorno tanto atteso del ritorno, del trionfo dell'amore in pubblico tra Albano e Romina quello che hanno sempre nascosto quello che hanno sempre provato in maniera tacita, finalmente è venuto fuori, amici di Youtube, il 2019 sta per passare agli archivi il 2020 sarà un anno straordinario sarà l'anno del ritorno insieme dal punto di vista sentimentale di Albano e Romina io vi ringrazio per l'attenzione brevemente vado a leggere la traduzione di questo video, anche in spagnolo diciamo che Albano e Romina se aman e stavez salirono alla luce i lo vimos de las fotos le fotos che stanno sul mio Instagram marcoliguerisette subscrivete al primo canale di marcoligueri e al mio Instagram marcoliguerisette amici di Youtube grazie di tutto vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 500 like le pubblicherò immediatamente uno nuovo scelgo il vostro commento iscrivetevi al canale basterà semplicemente cliccare il tasto iscriviti in basso a destra attivate la campanella anch'essa in basso a destra seguitemi sulla pagina Facebook Albano Carrisi Fan Club seguitemi su Instagram marcoliguerisette ciao a tutti